Bene amici, quando mi hanno invitato oggi qui da Samsung speravo l'S10, il foldable, invece no perché è stata un'anteprima di tutte quelle novità che arriveranno il 20 di febbraio, quindi tra pochissimo. E ci hanno spiegato che proprio per non far passare in secondo piano questo tablet che direi molto interessante nella presentazione del 20, ce l'hanno fatto vedere un po' prima. Stiamo parlando del Tab 5e, molto leggero, 400 grammi, molto sottile, 5 mm di spessore con un display Super AMOLED, beh i display di Samsung sono sempre molto belli, guardate qua anche contro luce come spicca e che colori. Ve lo faccio vedere velocemente su tutti i lati, qua abbiamo i due dei quattro speaker più abbiamo anche la presa tipo C 3.1 quindi esce anche il video, qua abbiamo la contattiera per andare a collegarlo alla smart keyboard o alla smart cover e da questa parte ci sono gli altri due speaker. speaker ovviamente con la compatibilità con Dolby Atmos visto che c'è partnership tra proprio Dolby e Samsung. Completamente in metallo, 4 giga la memoria RAM, 64 gigabyte la memoria integrata che però è espandibile con microSD e ci sarà anche e anche in Italia in versione sia LTE con la possibilità di mettere qua una nano sim, sia in versione solamente wifi. uscirà a inizio aprile a circa, no anzi ci hanno detto meno di 500 euro ma adesso lo accendo lo sblocco tra l'altro con il sensore di impronta digitale posto qua nel tasto accensione spegnimento ovviamente c'è anche lo sblocco con la fotocamera vi faccio vedere la interfaccia One UI per tablet che è un po' diversa rispetto a quella per smartphone. lo sblocco e ribadisco come questo display da 10,5 pollici di diagonale sia veramente bellissimo qua c'è tantissima luce eppure lo si vede molto molto bene. prima cosa che si vede le nuove icone della One UI dell'interfaccia su WIPA per aprire tutte le applicazioni e un'altra cosa è il primo tablet ad avere Bixby Home e uscirà direttamente con Bixby Home in italiano. purtroppo non sono collegato alla rete quindi non funziona banalmente ma vi faccio vedere l'informazione sul tablet perché il software oltre ad avere Android 9 presenta la versione di Android UI proprio 1.1 quindi l'ultimissima. cosa cambia sui tablet rispetto agli smartphone sostanzialmente due cose la prima è questa quindi il multitasking multi windows che ci fa vedere comunque un'anteprima delle applicazioni delle applicazioni aperte in maniera diversa rispetto allo smartphone e poi anche su questo device oltre a che l'avevamo visto mi sembra sull'S4 già Samsung DeX ovvero l'interfaccia desktop di Samsung che si attiva direttamente con quel pulsantino senza dover collegare niente né accessori né HDMI né altro. e come vedete l'interfaccia è più simile a quella di un pc poi conosciamo comunque l'interfaccia DeX quindi non sto qua a entrare nello specifico ma voglio far vedere una cosa. nei DeX Labs è possibile attivare questa opzione che tenta il ridimensionamento e di far funzionare le applicazioni anche non pensate per DeX nell'interfaccia DeX. ma adesso esco da questa interfaccia che ovviamente ha molto più senso se poi colleghiamo qua la tastiera in modo da utilizzarlo un po' come 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 desktop vi faccio vedere il comparto fotocamera eccolo qua camera da 8 megapixel anteriore e da 13 al posteriore sporge un pochino sì ma nulla di drammatico. comparto fotocamera che è sostanzialmente molto molto simile a quello degli smartphone con qua la possibilità di andare anche a fare fuoco live quindi effetto effetto bokeh. insomma questo è il tab 5e io mi abbasso per fare la chiusura e mi inginocchio chissà se mi inginocchio davanti al super capo supremo di samsung su al settimo piano mi farà vedere il foldable s10 dubito di no bisognerà aspettare il 20 ciao